Un carissimo saluto a voi partecipanti a questo convegno organizzato dall'Ufficio di Pastorale delle Vocazioni e dall'Ufficio di Pastorale Famigliare. Avete riflettuto su tanti temi e vi apprestate a camminare lungo la traccia segnata dai cantieri di Betania. Non dobbiamo dimenticare che sino dice cammino e che anche i cantieri di Betania hanno a che fare col cammino di Gesù che in cammino verso Gerusalemme attraversava città e villaggi e cioè i cantieri sono momenti in cui noi ci mettiamo assieme per costruire, per riparare, per non lasciarci prendere dalla retorica del tutto va male, tutto è distrutto. Lì dove è distrutto noi dobbiamo ricostruire, lì dove non c'è nulla dobbiamo edificare qualcosa di nuovo, cioè la comunione della Chiesa nel suo sforzo di evangelizzare, di andare verso gli uomini. Ma possiamo davvero andare verso i uomini se assecondiamo il cammino di Gesù, ci mettiamo dietro a Lui. Del cammino parlerà anche la festa che sta per avvenire, che stiamo per celebrare, quella dell'Epifania. Il cammino dei Magi dice dell'inquietudine dell'uomo che vogliono Dio, che cercano un luogo di giustizia e di verità e seguono una stella che appare misteriosamente e suscita in loro il desiderio e guida il loro itinerario. Ecco noi siamo chiamati a far questo, a sapere interpretare, ascoltare, interpretare ed esprimere, accompagnare il cammino dei uomini, giustificato dall'inquietudine del loro cuore. Vogliono di più, vogliono sempre di più, perché si sentono destinatari di una grande vocazione. Ma per loro non possiamo limitarci a parlare di Gesù o della Chiesa, dobbiamo stare accanto a loro o precederli ed essere forse, e questo possiamo farlo ripetendo una bella parola di Leone Magno, essere anche noi stella per loro, una stella che buca il buio, che illumina il cammino degli uomini, che indica una strada. In un momento di buio è necessario guardarsi per cercare dove è una fonte di speranza, e sono le luci i nostri santi, la Chiesa, la nostra comunione. Tutte le volte in cui noi sappiamo farci interpreti del desiderio dei uomini, diventiamo per loro una luce. E facendo così sappiamo anche interpretare l'inquietudine di Dio, perché agli uomini che camminano Dio risponde in quel bambino che si fa avanti, che viene offerto dalla Madonna all'adorazione. Ecco, auguri allora perché il vostro cammino sia il cammino dei uomini, perché la luce che ricevete dalla fede sia per loro una ragione di speranza, e perché la vita si consumi in questa adorazione che significa dono di sé, che significa contemplazione, che significa la gioia di non essere mai sazi di ciò che unicamente può parlare al nostro cuore, Cristo Gesù, che nella forma di un bambino si offre al nostro abbraccio. Auguri a tutti. Grazie.